Era riuscita a chiudersi in bagno e a chiedere aiuto al 112, vittima della vicenda, una donna costretta con violenza a subire atti sessuali da un uomo, introdottosi nella sua casa con il pretesto di doverle parlare. I carabinieri della tenenza di Mascaluccia hanno accertato che la vittima, una 42enne del luogo, subiva da tempo attenzioni di natura sessuale da parte dell'uomo, 57 anni, che è stato così arrestato e trattenuto in camera di sicurezza. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.